Governatore, intitolata oggi a Ettore Romoli la sala del CAL, qual è l'insegnamento che ci lascia questo protagonista della politica del Friuli Venezia Giulia? Bentanto ci ha insegnato che prima di tutto viene la difesa del proprio territorio, lui dai ruoli dalla regione a Roma ha sempre messo davanti le proprie comunità e questo è molto importante perché nel momento in cui si perdono le radici, chi fa politica invece deve tenere queste radici ben salde e forti perché lui è mandato nelle ruole di rappresentanza per rappresentare i propri cittadini, in secondo luogo la sua grande capacità di comprensione e di mediazione rispetto alle esigenze degli altri e anche di chi la pensava in modo diverso da lui e questo un pochino manca alla politica perché tante volte ci si arrocca su posizioni personali e non si guarda invece a un punto condiviso che ha come obiettivo dare risposte ai cittadini l'obiettivo per chi fa politica non è quello di avere ragione ma di avere risposte e questo Ettore l'ha insegnato molto bene